Tappa conclusiva del Giro del Delfinato, ma soprattutto il miglior viatico per il Tour de France che partirà il prossimo 1 luglio. Giulio Ciccone vince prendendosi la Bastiglia di Grenoble nella frazione più dura, l'ottava, che ha confermato in giallo Jonas Vingegaard. Oltre 4.000 ai metri di dislivello affrontati con 37 chilometri di salita sui 153 complessivi e col trittico Col du Grenier, Col du Coucheron e Col de Porte prima dell'ascesa conclusiva fino a Grenoble. Tappa che ha visto l'attacco di nove corridori tra i quali proprio Giulio e un altro italiano, Matteo Trentin, che però non riuscirà a tenere le ruote dei fuggitivi. Rimangono in cinque infatti al comando con Ciccone, Benot, compagno di squadra del leader danese, Alaphilippe, Champusen e Castrovieco. Il vantaggio sul gruppo della maglia gialla non incrementa oltre il minuto e 30 secondi e quando mancano 20 chilometri al traguardo rimasto con Alaphilippe Giulio Ciccone prova l'azione in solitaria scattando in faccia al campione francese e scollinando sul Col de Porte con un'impresa ancora tutta da compiere. Farlo soprattutto in discesa nella quale è costretto a prendersi qualche rischio avendo solo mezzo minuto di gap mentre di ero Alaphilippe viene risucchiato dal gruppo all'inseguimento. Ma è sulla scesa conclusiva che Ciccone resiste malgrado le pendenze nonostante dietro Vingegaard pur senza alzarsi sui pedali aumenta l'andatura lasciando tutte le sue spalle. Non Giulio che va a prendersi una frazione che conferma come il Covid abbia privato il Giro d'Italia di un potenziale protagonista assoluto della Corsa Rosa. L'atleta della Trek Segafredo già in palla al Catalunia dove a Valterra aveva regolato Evenepul e Roglic conferma come il 2023 con trattempo Covid escluso si confermi un anno nel quale ha una condizione eccellente. Giovedì il quarto posto, ieri successo che gli consente anche di far sua la maglia a può di miglior scalatore. Una vittoria fa sempre piacere ma qui conferma fine tappa con questa atmosfera credo sia ancora più bello. Sono stati mesi difficili con incidenti e Covid quindi ho iniziato questo delfinato non nelle migliori condizioni ma penso che alla fine della settimana la mia forma sia andata increscendo. Sono davvero felice e pronto per la mia prossima gara, i tricolori e poi il Tour. Per la Gran Bucle il mio obiettivo è sempre lo stesso, mi piacerebbe davvero vincere una tappa e mi piace molto questa maglia a può. E allora appuntamento al primo luglio con un ciccone in grado di far sognare il pubblico italiano e soprattutto abruzzese nelle tre settimane del Tour de France. Per la Gran Bucle il mio obiettivo è un po' di far sognare il pubblico italiano